Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, e no, e no, e no, non è che c'è l'anniversario dei trentane di matrimonio e si fa vacanza, si lavora, anzi a maggior ragione, 30 sul campo, tanti auguri a me e alla mia signora, noi parliamo di Juve che poi insomma è un po' la squadra del nostro cuore anche in questa giornata, iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella per essere la tua, ovunque voi siate. Ma io c'ho un Don Camillo carico, qua abbiamo molto da benedire, ciao Camille, come stai? Claudio, tanti auguri a te e a Paola che ho conosciuto, a cui ho condiviso anche una trasmissione, il Fantasarremo, tra l'altro è uno spettacolo parlare di musica con lei, quindi tanti auguri a voi assolutamente. Musica, sport e informazione, un po' il claim della nostra vita, cosa che facciamo anche qua perché facciamo sport, facciamo molta informazione e facciamo anche un po' di cinema e quindi anche un po' di musica. Oggi abbiamo delle robe sconvolgenti, sarà un fil rouge che unisce il mondo della next gen, dei giovani, ma prima, con grandi polemiche, grandi notizie, ma prima io farei un piccolo incidente sulla nazionale azzurra agli europei che con questi otto minuti di recupero ancora molto contestati dal tecnico della Croazia che dice siamo una piccola federazione, Allude che l'Italia è una federazione grande, quindi dice che Gravina è amico di Ceferin e al fianco di Gravina c'è sempre a casa azzurri Marotta. E Sballetti sbrocca, c'è un perché? Ma io ti dico, stranamente Spalletti aveva avuto dei problemi all'Inter e con la stampa, aveva detto è quasi, si ha sempre tutto dello spogliatoio e lì era appena arrivato Marotta. Poi adesso ci sono questi problemi con un giornalista dicendo ma chi è che ti ha detto questa cosa del patto dei giocatori del 3-5-2 perché il 3-5-2 è il modulo dell'Inter e qualcuno dirà ma la Juve? No, la Juve aveva tutti giocatori in panchina quindi questa volta siamo fuori da questa situazione, questa volta fortunatamente siamo fuori da questa situazione e quindi allude a delle polemiche ma chi ha parlato? I giocatori o Marotta che ultimamente sembra fianco della nazionale? C'è Gravina e c'è Marotta e questo con tutto il bene non è un bel segnale o quantomeno tu sai Claudio mi conosci bene, io non credo mai a complotti, a situazione. Però vedere sempre insieme a Braccetto e ovunque Marotta nel blocco Inter si cambia il modulo per il blocco Inter, addirittura Darmian lo metti anche esterno a sinistra dove non becca un canale però va tutto bene. Vabbè ragazzi ma da che mondo è mondo ma noi lo raccontiamo da sempre e ripeto non c'è niente di male anzi è quella l'abilità del grande dirigente, le influenze politiche sono fondamentali anche e soprattutto nel mondo dello sport, non è una novità. La cosa preoccupante è che quando c'è la Juve di mezzo viene giù il mondo, quando c'è qualche altra squadra diventa un valore aggiunto. È il racconto sempre che fa la differenza ma il tecnico croato non le ha mandate a dire e a quello si riferiva perché lui vede comunque che c'è un certo tipo di approccio politico che abbiamo nei confronti di questi europei sotto tutti i punti di vista come direbbe un allenatore che ha allenato tutte e due che tra l'altro oggi è stato presentato a Napoli. Che tra l'altro Claudio aveva detto le stesse cose di Spalletti un anno dopo, un anno dopo è qua tutti parlano con la stampa, tutti raccontano le cose dello spogliatoio però lì era stato trattato come conte che scoperchia il vaso, i misteri, invece l'anno prima Spalletti si attacca ai giornalisti, alle chiacchiere. Come dici tu, un racconto cambia le storie. È così, io lo dico da sempre, continuerò a sostenerlo fino all'ultimo giorno della mia vita. In realtà è come Allegri che sbotta e risponde a un giornalista e viene demonizzato al mondo perché non si fa, non si fa, giusto? No, in verità non sono d'accordo. No, però neanch'io sono d'accordo perché sai la tensione, gli attacchi uno alla fine sbotta, però non si fa, non si fa. Poi lo fa Spalletti in maniera peggiore perché ha detto delle robe parolacce, gli ha detto al giornalista 224 devi farti tante pippe prima di arrivare alla mia età. Ma ha detto delle robe allucinanti? E beh, la tensione. Ah, allora vedi che poi la stessa cosa viene interpretata e raccontata in maniera diversa. Ma detto questo, noi vogliamo partire da Leo Messi proprio perché non è Cristiano Ronaldo e da noi non ci ha giocato. Cosa ha detto Leo Messi, caro il mio Camillo De Mipelisi? Te lo traduco già veloce. Dice che l'era di Guardiola, lo dice Messi eh, lo dice Messi, eroe del tiki-taka del Barcellona. L'era di Guardiola ha causato a bit of confusion, un po' di confusione. Ognuno vuole che adesso tutti giochino come giocavamo noi. Ma lo dicono a giocatori di 6-7 anni, ai bambini, gli dicono devi giocare con due tocchi veloce. Ma a quell'età, e io l'ho passata, dice Messi, non dobbiamo togliere ai ragazzi la loro spontaneità. Che è casualmente la cosa che diceva sempre Allegri dai giovani, ma che siccome Allegri era out, adesso è out veramente che non c'è più, ma allora era out, andava demonizzato anche lì. Però adesso lo dice anche Messi. Ma guarda, ti dico, io Claudio penso che sia giusto con degli asterischi. Ovvero è normale che il ragazzino deve divertirsi. Io ho visto degli allenamenti, Claudio, di 10-12 anni, i bambini. Ho detto, ma io non sapevo nemmeno cosa fosse determinate cose. Cioè io volevo la palla e volevo provare a fare gol. Questo è, invece lì ci sono delle scalate, delle situazioni che sono veramente riguardi. Dici, wow, però hai perso un po', no, la spontaneità del gioco. Sono molte macchine. No, perché tu lo sai poi com'è la traduzione nazionale. Quando c'è il blocco Juve si perde, è colpa della Juve. Quando si vince, è merito degli altri. Adesso che il blocco è un altro, quando si vince, è merito loro. E quando si perde, è colpa dei giovani che non ci sono più, dei numeri 10 che non ci sono più, della tecnica di base che non c'è più. Grazie, Claudio, perché qua mi dai un grande assist. Perché, sai, noi su Radio Bianconera ormai da tanti anni riusciamo a capire questa intolleranza verso la nazionale, soprattutto nei riguardi di Gravina. Io dico che gli errori di Gravina e di tutto il suo staff e di chi comanda il calcio, è proprio nei giovani. Perché se Zaccagni non avesse messo quel pallone all'incrocio a sette secondi dalla fine, arrivava lì, bello bello, in conferenza stampa, invece di dimettersi. Eh, ma le squadre, le grandi squadre, non investono nel settore giovanile. Ah, ma ci sono troppi stranieri. Non si investe, no, nei centri sportivi. E queste sono stupidaggini. Sono luoghi comuni che fortunatamente, quando parli con i dirigenti, e ve ne cito uno, Federico Cherubini, te li smonta passo a passo. Perché il sistema calcio italiano non funziona. Dalle giovanili. E non è il tiki-taka o la diagonale difensiva. È che in primavera giocano i 21enni. Claudio, i 21enni. Ma come fai a far giocare uno del 2003? Miretti, potenzialmente, in un campionato primavera. Quest'anno la Roma ha giocato una finale primavera che non conta niente. Niente. Non ti dà visibilità. non ti dà premi, non ti dà denaro. Con dei 2003 che hanno giocato in Serie A. Ma allora, la domanda che faccio magari a qualche nostro ascoltatore che sta vedendo il video, dico, ma se hai un figlio di 16-17 anni, ma mandalo a giocare con i grandi. Mandalo in eccellenza. Mandalo piuttosto in Serie D. Ma non fare il percorso di un settore giovanile anche di una squadra grande se poi viene prestato in giro per mezza Italia e non gioca mai. Il paragone che cambia tutto Claudio l'ha fatto al Golden Boy Cherubini e ha analizzato la carriera di Spinazzola e la carriera di Morata. Nei tre anni dopo la primavera, Spinazzola ha cambiato cinque club e ha giocato sedici partite da titolare in tre anni. Morata è andato a Nel Castiglia, la seconda squadra del Real Madrid, ha giocato 86 partite, ha giocato anche uno spezzone di una finale di Champions e poi è arrivato la Juve. Questo è il percorso di Spinazzola e questo è il percorso di Morata. Ma noi, quando le cose vanno male, tiriamo fuori gli stranieri, il settore giovanile. Ma se solo il 4% dei giocatori che esce da una primavera va in un campionato di Serie A, ci sarà un motivo che forse è meglio rivoluzionare una primavera o non combattere le seconde squadre perché adesso le seconde squadre sono il male, invece farle andare addirittura in Serie D, farle giocare nelle categorie non professioniste, ma farle giocare perché fa il bene dei giovani. Ma l'esempio della Juventus, visto che Gravina fa sempre i modelli Napoli o Milano centrici, invece che riferirsi a quello vero, il modello della Juventus, ma non ha insegnato niente a nessuno. Ma ragazzi, ma quando c'è stata la possibilità di fare le seconde squadre, chi è l'unica che l'ha fatta? La Juve. Pagando il doppio. Pagando. Perché la gente si dimentica di raccontare che Ema, Ema, la seconda squadra, costa, prima di ricevere i frutti che riceve adesso la Juve, perché ne ha tanti arrivati dalla Next Gen, o che possono giocare in prima, o che possono essere, lo vediamo, dirottati sul mercato per costruire una nuova squadra, ma prima di riceverne i frutti, ha speso soldi tanti per affrontare il percorso Next Gen. E il risultato, invece che ispirarsi e glorificare il modello di Juve, cosa fanno? Che appena la prima, dopo anni l'Atalanta, fa la seconda squadra, mettono la Juventus nel giro nei B. Adesso che arriva il Milan, forse la mettono nel C. Tra l'altro, ti segnalo che la Juventus è molto infastidita a questa cosa, perché ci sono delle situazioni che sono gravi, ovvero Caselle, l'aeroporto di Torino, è un aeroporto secondario rispetto a quello di Bergamo e a quello di Milano. Gli spostamenti in pullman che ha fatto quest'anno per giocare già nel giro nei B sono stati veramente difficili, ti sto dicendo 8-9 ore di pullman, quindi non ti alleni, ti stanchi prima di una partita, perché stare in pullman, viaggiare, è bellissimo, però in pullman è stancante, quando attraversi mezza Italia, per un giocatore comunque professionista, e tra l'altro Milano e Bergamo sono più vicine, un'ora e mezza, un'ora e mezza più vicino, quindi la Juve non è contenta di questa gestione, la Juve non è contenta del sorteggio, perché rischia di andare in un girone troppo distante e non ha i voli, non ha gli spostamenti aerei rispetto a Bergamo e Milano, e questo è un fattore che deve essere valutato prima di fare questo tipo di rivoluzione, ma è un sistema che non funziona Claudio, perché ti dico non si scrive l'Ancona, viene inserito il Milan, seconda squadra, ecco la Re Canatese dice ma non è giusto, io sono a retrocesso, perché? E questo è il problema, bisogna fare delle regole per non permettere ai tifosi della Re Canatese o dell'Arezzo che ha contestato quest'anno e di altre squadre di andare contro le squadre B, ma di utilizzare la Re Canatese, l'Ancona, l'Arezzo, tutte le squadre che sono in Lega Pro per cercare di unirle anche alle seconde squadre, piuttosto, ripeto, farle giocare, eventualmente se c'è una retrocessione di una squadra tra Milano, Juventus e Atalanta, non credo, però se dovesse esserci, non interrompere il progetto, ma mandarlo in Serie D, perché, ripeto, noi abbiamo 21 anni che giocano in primavera, ma manda un 18 anni a giocare piuttosto in Serie D, che è molto meglio, che si abitua a giocare con chi ha 30 anni, 35, con chi ha esperienza, li fanno maturare, invece, questa dinamica di valorizzare un campionato di primavera che è impossibile, quasi impossibile, fare il salto da Serie A, da Primavera a Serie A, è una cosa folle, ti ripeto, poi siamo tutti legati a Yamal, adesso c'è il fenomeno Yamal, in Italia, sei anni fa, è uscito un Yamal, anzi, quasi dieci, ed è Gigio Donnarumma, che è stato trattato in maniera orrenda per il rinnovo di contratto del Milan, quindi, degli episodi straordinari come Donnarumma, come Yamal, è un conto, ma noi dobbiamo lavorare sui grandi numeri, Claudio, Sporting Lisbona, Benfica e Porto, insieme, portano lo stesso, anzi, più giocatori del settore giovanile di tutte le 20 squadre di Serie A, ma questi sono numeri che chi comanda al calcio deve conoscere, non posso saperli io, te o altri, devi lavorare per quello e non dire, ah no, troppi stranieri, perché con i luoghi comuni non si va da nessuna parte, è come chi ha esaltato subito nel post gara la Nazionale di Spalletti dicendo, è nata l'Italia, questi sono segnali, no, lì, in quel post, poi col giornalista invece di Radio 24 ha sbagliato tutto, in quel post, rispondendo a Paolo Condò dicendo, no no, noi siamo sotto ritmo e giochiamo male, lì è stato sincero e questo è un messaggio giusto, poi quando si esagera hai detto bene tu, bisogna fare un passo indietro. Noi non vogliamo esagerare, ma oggi siccome abbiamo un Don Camillo frizzante, bello, infervorato, è cotto al punto giusto, anche perché sta pregustando le vacanze, io lo so, e allora io vado anche sulle women, perché Barbara Bonansea ha rinnovato il suo contratto per un altro anno con le ragazze, io sono sportivamente molto legato a BB e a tutte le altre che hanno aperto il ciclo, lo stesso il direttore Braghine ed ecco i commenti dei tifosi della Juve, perché ormai il calcio femminile è già diventato come quello baschino, ecco, rinnova tutte le anziane, ecco, com'è? Ma Claudio, guarda, bisogna essere onesti, non c'è stato il ricambio, non c'è stato il ricambio, a Biella, vai per vedere, Rosucci, anche da infortunato, vai per vedere Bonansea, vai per vedere, Girelli, e comunque, Salvai, Boattin, queste sono le giocatrici più importanti, anche la stessa gamma, che non gioca mai, però, rinnovo di contratto, perché, comunque, chi magari non segue quotidianamente le women, conosce loro, conosce poco le altre, adesso conosce Caruso, Caruso è la giocatrice più forte italiana, molto probabilmente, quindi, conosci lei, però, delle giocatrici giovani, è l'unica che è diventata un simbolo, forse diventerà anche cantore, ma, io non trovo tanta diversità, dal rinnovo di gamma, dal rinnovo di Bonansea, e dall'acquisto di Alicia Lehmann, solo che Alicia Lehmann è già stata etichettata come è solo bella, ed è una creatrice, digitale, però, la Juventus, con tutto il bene, utilizza anche, il nome, di Barbara Bonansea, di Saragama, di Girelli, di Rosucci, Salvai, Boatin, in generale, non solo per la sfera calcistica, ma anche, per la sfera, di comunicazione, di immagine, delle Juventus women, perché, comunque, è normale, se no, il tifoso, in chi si rispecchia? I famosi punti di riferimento che ci stanno mancando nel maschile e stiamo cercando, infatti, di ricostruire. E allora, qual è l'anello di congiunzione, Cami? Noi, mentre parliamo, probabilmente, ha già fatto anche le visite mediche, non lo sappiamo, il famoso Douglas Lewis, che con la fidanzata Alicia, arriveranno tutte e due in bianco e nero. Ripartiamo da lì? Sì, sì, ripartiamo, diciamo, con un aspetto, io ti dico, per le women, Alicia Lehmann, è un'opportunità straordinaria, parlando di numeri, eh, e poi, credo che calcisticamente, andrà anche valutata, perché, se no, sembra, comunque è una nazionale svizzera, non lo dice mai nessuno, ok, è vero, magari gioca truccata, perché ho già letto questo, Emma gioca truccata, chi se ne frega, ma è una nazionale svizzera, la Juve a Caligari, può giocare anche con la barruca, che c'è frega, esatto, la Juve a Caligaris, Claudio, che è comunque la sua compagnia nazionale, perciò ti dico, iniziamo a valutarla anche poi sul campo, però, ci sono dei video, che comunque possono portare la Juventus femminile, ad avere più sponsor, ad avere degli introiti, ad avere una facilità di gestione, migliore rispetto a quella degli ultimi anni, perché, tutto bello Biella, è partito con grande entusiasmo, ok, non vendi biglietti, perché costa zero, e, le ultime partite, non è risoled out, perciò, c'è anche bisogno, no, di creare qualcosina, e per crearlo, se trovi anche... C'è bisogno di creare emozione, per avere avvicinamento dei tifosi, dai, esatto, esatto, soprattutto dopo che hai perso, comunque, una figura, che poteva essere rappresentativa, anche come, ragazza immagine, che era Giulia Grosso, perché Giulia Grosso, era, comunque, protagonista di, di gran parte dei video, dei social della Juventus, e ripeto, il marketing esiste, ma esiste negli uomini, come esiste nelle donne, ed è giusto abbinare, poi, che Alicia Lehmann, forse non fosse, nella prima lista degli acquisti, di Braguin, lo possiamo anche dire, però poi valutiamola per il campo, perché arriverà, giocherà, e magari sarà una sorpresa, non lo so, io non la conosco, non ho seguito le partite, dell'Aston Villa femminile, non me ne voglia, però credo Claudio, che possa essere giudicata, come una calciatrice, tuoi tocchi al pallone, se gioca la nazionale svizzera, li saprà anche dare, a proposito, visto che noi facciamo sempre, gli spiritori sugli svizzeri, e poi magari ci buttano fuori, pure dagli europei, come è già successo, dai mondiali, e poi scusa, ma noi dimentichiamo, sempre il lato umano, ti dico anche, che magari Douglas Lewis, che arriva, e ha bisogno di ambientamento, se arriva con la fidanzata, magari durante il giorno, è agevolato a vivere, una vita migliore, mentre si ambienta, gli dà la mano, la sua compagna, o no? Esatto, ma poi ripeto, Claudio, noi lasciamo parlare il campo, è vero che ormai, è un'epoca, in cui sappiamo tutto di tutti, ho capito, ma basta che arriva uno o una, e si scatena sui social, le peggio cose, ma neanche li conoscete, ma da, esatto, intanto, comunque, come hai detto tu, avere, una stabilità familiare, aiuta, è tanto, è tanto, perché, io mi ricordo, Morata, ai tempi, no, del secondo anno in bianconero, ebbe un, dei problemi sentimentali, con l'ex fidanzata di turno, e comunque aveva dichiarato poi, che quei mesi erano stati molto difficili, infatti, nel secondo anno, Morata, non segna quasi mai, poi, si fidanza con la sua attuale moglie, e nell'ultima parte di stagione, Morata fa tantissimi gol, tra l'altro, è anche un gol decisivo, quello nella finale di Coppa Italia contro il Milan, quindi, la sfera sentimentale è importante, però, torniamo a valutarli, su quello che sarà il campo, ecco, su Douglas Lewis, a livello tecnico, tutti, siamo abbastanza contenti, su Alicia Lehmann, ecco, anche qua, leviamo i pregiudizi, sarà una giocatrice della Juventus, con tanti followers, come sono stati tanti giocatori, e saranno tante altre giocatrici, vedremo quello che saprà dare, se spara bene, parleremo bene di lei, se no si criticherà come tutte. Assolutamente sì, domanda secca, risposta secca, il prezzo è giusto, di Douglas Lewis? Il prezzo è giusto, sì, il prezzo è giusto, Calafiori, il prezzo è sbagliato, grande, grande ammiratore, qual è il prezzo giusto di Calafiori? Per me sono 30 milioni di euro, è già tanto, Turam. Turam il prezzo è straordinario, il prezzo è straordinario. Ma quale di quelli che hai letto? Il prezzo è 20 milioni, con i bonus. Più una contropartita tecnica da mettere dentro. Che dovrebbe essere Nonge, però... Nonge, no, Nonge, ma come Nonge? Dovrebbe essere Nonge, perché c'è questo contratto, 2026, lui non vuole tanto rinnovare, la Juve ha paura di perdere, dei soldi, e quindi potrebbe essere Nonge, Nonge piace tantissimo a Nizza, a Nonge piace la Ligan, potrebbe essere un appare. Tutto si incastra. Di Lorenzo chiesa la pari, è giusto o non è giusto? No, 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 oddio, io non sono uno dei dieci fan più scalmanati di chiesa, però no, insomma, c'è un europeo, insomma, chi sta alzando il prezzo di Calafiori ogni minuto che passa per l'europeo, direi che guardando Di Lorenzo ogni minuto è un milioncino in meno, ecco. Non che diciamo chiesa ogni minuto aumenti il suo alore, però Di Lorenzo sicuramente si è svalutato tantissimo. In chiusura, Copminers, sta dove sta, 60 o va da qualche parte? No, Copminers secondo me va via, e Copminers è strettamente legato a Rabiot. Pensi che sono amici? Vannocene insieme? No, non credo, questo non lo so, però diciamo che sicuro non mi immagino un centrocampo Rabiot, Turam, Douglas Lewis e Copminers, ecco, così no. Va bene. Don Camillo, io non so se nel prossimo contenuto ti vedremo abbronzato, ti distrubbremo in vacanza, lo posporremo, come sarà il prossimo contenuto? Ma sicuramente per la mia passione, per prendere il sole, sicuramente dovrei essere abbronzato, se non dovessi essere abbronzato ho fallito, però ecco, mi auguro di avere una tintarella ecco. Ok, obiettivo di Don Camillo per il prossimo contenuto è l'abbronzatura, come siamo arrivati ragazzi. Grazie Camille! Grazie a te Claudio! Voi iscrivetevi al canale, che da qua avete sempre qualcosa che dalle altre parti non avete ragazzi, frutto del lavoro, io ve lo dico, perché è bello lì accendere la telecamera, prendere una roba che si è... Invece lavorare, andare, approfondire, sapere è fatica, ma è fatica aver ripagata, perché voi siete sempre di più, quindi mettete i like, commentate sempre di più e scampanellate, per essere raggiunti e raggiunte, ovunque voi sia a te.